Con l'inaugurazione dei presepi, il giorno dell'Immacolata, entra sempre più nel vivo il Natale in città del comune di Pordenone. Il presepe sotto la loggia è stato inaugurato con canti, riflessioni sull'accoglienza e preghiere, in collaborazione con l'oratorio Don Bosco, l'assessore comunale Renzo Mazzer. E anche quest'anno, come tutti gli anni, come nelle famiglie si fa il presepe per tenere unita una famiglia, noi facciamo il presepe sotto la loggia del comune, un presepe simbolico per tenere unita la nostra comunità. È un messaggio che vuole essere un messaggio di pace, di fratellanza, è un messaggio di tradizioni che devono essere rispettate perché le radici della nostra storia non si possono dimenticare. I presepi realizzati dai bambini delle scuole hanno invece trovato casa nel chiostro della Biblioteca Civica. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Sempre all'interno di Natale in città, la premiazione dei presepi realizzati dalle scuole della nostra città, crediamo fortemente che questo sia un messaggio simbolico e che abbia anche un valore testimoniale di pace e di distensione in un momento di così grande difficoltà. Un grazie ai ragazzi, un grazie agli insegnanti che hanno partecipato ancora una volta e nella sede della Biblioteca Civica noi speriamo che ci siano visitati e abbiano un grande successo. Il mercatino L'Altro Natale è terminato, ma la solidarietà non si ferma e continuerà sabato e domenica con la raccolta di giocattoli e cancelleria per i bambini bisognosi a cura della Chiesa Evangelica Battista, sempre in piazza 20 Settembre. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ai bambini della pediatria che il giorno di Santa Lucia riceveranno la visita del coro Coro Co del CEM. Contestualmente, la Proloco Pordenone consegnerà un assegno al progetto assistenza domiciliare pediatrica.